La seconda variante è un after dinner, il cioccolate martini. Si ispira ai cioccolati piemontesi, precisamente al Gianduia. Andiamo a creare una variante su una variante che è quella del Vodkatini. Partiamo su una base neutra che è la vodka, una Stolice Naya Red Vodka. Un liquore italiano frangelico, liquore alle nocciole, un generale di cuneo, di ventigradi. Del Quintrò, che si sposa molto bene con il frangelico. E un aroma naturale alle nocciole. Andiamo a creare quindi un after dinner che ricorda i cioccolati, i cioccolatini piemontesi alla Gianduia. Come sempre andiamo a raffreddare per prima il nostro martini glass. Andiamo a raffreddare anche il mixing glass. Andiamo a eliminare totalmente il ghiaccio. Andiamo a passare un CL di frangelico. Un CL di Quintrò. E 5 CL di vodka. Andiamo a miscelare il nostro cocktail. Andiamo a passare il nostro bicchiere di servizio. E andiamo a completare con un flambé di aroma naturale alle nocciole. Ed ecco a noi il nostro cioccolatini martini. E un film. Andiamo aqui. Andiamo a Damo. E noi siamo cattivati. Andiamo a tutti. So. Grazie a tutti.